Allora ragazzi, bentornati sul canale Gaming Now e continuiamo il gameplay di Assassin's Creed 4 Black Flag. Allora, ci troviamo in un isolotto perché abbiamo recuperato un po' di roba. Qui c'è un altro... Ma come cazzo vado là? Aspetta che forse ho capito. No, non ho capito. Doviamo recuperare un altro manufatto dell'animus. Frammenti dell'animus. Sono dei collezionabili quindi per chi volesse completare il gioco al 100% ma non è uno dei miei obiettivi quindi al momento quindi se ci sono li prendo che tanto male non fa però non è indispensabile. Allora, siccome questo gioco è veramente ampio e ci sono molti luoghi da esplorare che comunque non sono indispensabili per la missione... ...per la storia principale. Intendo isole, isolotti. Oppure missioni di caccia anche in mare come pesca e... ...o missioni di immersione subacquea. Penso che farò dei video quindi appositi che non ho mai fatto prima... ...pochi però eh... riguardo queste cose qua. Cioè non continueremo la storia principale in questi video ma... ...appunto mi dedicherò a queste cose secondarie. Tanto per farvele vedere ma non farò... ...non registrerò tutto quanto quindi... ...ok... ...lo torniamo a bordo della nave... ...perfetto... ...incontro... Salve capitano, ho trovato qualcosa? Tra desiderio e realtà c'è un oceano, sai... ...però ho creato una nuova fondina... ...mi manca soltanto una pistola da infilarci. Vieni... ...proviene dalla steva, tu ti ragioni. Poco meglio di una cerbottana... ...ma va bene. Allora... ...siamo pronti? ...o dobbiamo aspettare ancora? È meglio salpare. Per me la ciurma brama di tornare alla civiltà. Non c'è civiltà a Nassau... ...ma è un posto come un altro per starsene a Legis. ...ok... ...missione completata. ...missione completata. Pistole multiple. Premi se non più volte con le pistole equipaggiate... ...per sparare più colpi di fila contro i bersagli evidenziati. Questi colpi causano meno danni... ...ma interrompono gli attacchi. Aprite le vele! Aprite le vele, forza! Pronti al fuoco! Pronti al fuoco! Siamo pronti! Fuoco! Prontiamola! Li spazzeremo via! Ok... ...attenzione che ci attaccano. Fuoco! 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 Manno 3 verso l'inferno! Tenetevi! Abbiamo danneggiato questa nave! Vediamo... ... ...como dei veri pirati. ... Ci dirà ciurma, ne mica! Che cazzo? Sali Stanno combattendo Ok proviamo a Attaccare nuovamente la na Qua c'è un sacco di na Di breve Ok Abbordiamoli Ok Ora ci siamo Vittoria Abbiamo Abbordato la nostra prima nave Ok Bottino ottenuto legname Barili infiamabili I membri della sua Ripara la jet down Ok Ok Quindi abbordando le navi Possiamo potenziare La nostra Ok Nassau Aggiungiamo Aggiungiamo Nassau Vediamo se possiamo Attaccare Un'altra Nassau 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 Siamo pronti Cazzo La donna Che cazzo Ok 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 Siamo pronti Ok Buon colpo l'assistenza! Fuoco! Fuoco! Si è vulnerabile! Fuoco! Guarda sì, è andata in pezzi! Fuoco! Fuoco! Non soffrendo, ecco! Capitano! Perfetto! Ok! Addirittura senza dover scendere dalla nave! Che ne facciamo di questa nave? E il bar alla gettata! Ciò che abbiamo preso possiamo migliorare la nave! Abbiamo altre due navi da abbordare! Ah, c'era una mina! E mettami! Lasciate i gacci! La freda incostra! No! 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 Sì, Sì! Direi che possiamo procedere con la missione principale Aspetta, io c'ho un'altra nave, bro Aspetta, io c'ho un'altra nave Aspetta, io c'ho un'altra nave Aspetta, io c'ho un'altra nave Ok Dunque Dobbiamo raggiungere Nassau Madonna, è lontanissima Osiamo mettere anche le canzoni Quando facciamo i viaggi rapidi Attenzione qua Zona vietata Accettiamo Accettiamo Corri da papà Già Eravamo corsari insieme Poi la guerra è finita Ci vediamo a terra Ok Abbiamo raggiunto un'altra cittadina Nassau Bandiera inglese Ci sono soldati inglesi quindi qua Non so sta roba Un'altra città 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 Non 나와 1 Ein Cerchiamo di Blocare Un punto d'osservazione accettabile Questo Episode che si trova là c'è una vita è stato io non posso arrampire come un'annuale ma è Grazie a tutti 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 Ok Vediamo un po' cosa abbiamo qua in zona Portuale acquista potenziamenti per la jetdown Ah quindi sono i portuali questi Potenziamenti per le navi Ok Allora missioni principali Taverna Aave E' uguale, quartier mastro della Jackdor. Jackdor. Hai chiamato la tua nave come un uccellaccio? Ade, questi signori sono l'orgoglio della nostra nuova confederazione. Ed Touch, Ben Hornigold, James Kipper. Mi fai portare una pistola? Calma, Ben. Ade mi ha salvato. Stiamo cercando una ciurma per salpare con la mia nave. Sai, ci sono tanti bravi marinai qui. Ma stai attento. Una nave piena di uomini del re è appena arrivata. Causano guai e la fanno da padroni. Bene, vedrò chi posso trovare. Ciurma della Jackdor. Questa barra indica la forza della tua ciurma. Puoi assoltare marinai alla taverna. Puoi aiutare i pirati nei guai. Avrei pulito al cinque... Manda agli uomini che trovi alla Jackdor. Mi metterò al lavoro. A dopo, Ade. 15 pirati devo trovare. Non c'è qua. Sono tanti, eh? Vabbè. Perché ti butti? Allora... Ok... Allora... Ok... Ok... Allora... Possiamo farti avere un processo e piccarti qui! Ecco cosa penso dei tuoi ordini! Che cazzo fa? Si toccavi i coglioni! Ok... Ehm... Fanculo! E' bello! E' bello! E' bello! E' bello! E' bello! Ok... Ok... Andiamo a salvare altri membri della churma... ... 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 Sì Quello grosso Sì Sì Ok Andiamo a sbloccare un altro punto di osservazione Per essere Veramente alto questo Sì 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 Sì